Nove anni dopo, Angelo Gregucci torna sulla panchina della Salernitana. A Salerno, in via, aveva contribuito, subentrando a stagione iniziata da Mazzalorso, alla salvezza degranata. Era la Salernitana di Bombardini e Palladino. Ora Gregucci ha un compito ancora più difficile, garantire alla Salernitana di Lotito e Mezzaroma un posto nei play-off di prima divisione. Dovrà farlo, mettendo ordine in un gruppo con troppe fibrillazioni, dando un'identità precisa alla squadra, incapace in questa stagione di esprimere un potenziale, tutto ancora da decriptare. Gregucci era già stato contattato dopo il K.O. di Lecce, ma Lotito e Mezzaroma, dopo l'ingaggio del DS e Fabiani, avevano aspettato ancora. Perrone aveva salvato la panchina con il Gubbio, ma il suo allontanamento sembrava soltanto una questione di tempo. Con la proprietà, Lotito in particolare, infatti i rapporti si erano interrotti nella notte di Perugia. Da un mese a questa parte, soltanto un polemico botte e risposta a distanza, che alla fine ha delegittimato lo stesso Perrone agli occhi della squadra. La partita di Ponte d'Era, infatti, è la fotografia della crisi degranata, poca intesa in campo, voglia di non rispettare le indicazioni del tecnico e totale anarchia da parte di alcuni, fin qui poco funzionari al progetto. La squadra, insomma, aveva di fatto già dato il ben servito a Perrone. L'esonero, già nell'area ieri sera, è stato ufficializzato stamani. È toccato a Fabiani, comunicarlo a Perrone ed al vicegrilli, mentre Lotito era a Milano. A Perrone, dunque, non è riuscito il terzo miracolo, cioè concludere in modo vincente un'altra stagione sulla panchina dei Granata. È stato l'artefice principale della rinascita del calcio cittadino. Era tornato, convinto di riuscirci ancora dopo le incomprensioni estive con Lotito. Quelle incomprensioni che ha nominato però la sua nuova avventura, condita da troppi risultati negativi e da scelte discutibili. L'ultima, quella di non schierare tra i titolari Bianchi e Scalise gli ultimi rinforzi. Perrone però esce a testa alta dalla sua esperienza a Salerno, affrontata sempre con la massima coerenza. E va via, senza alcuna polemica, pronto a ricominciare altrove. La Salernità una volta pagina, d'Angelo Gregucci il compito di trasformare una stagione fin qui deludente in un campionato da ricordare. La parola passa allora al campo, squadra in ritiro e domenica il Barletta. Primo obiettivo tornare alla vittoria ma anche recuperare il rapporto con una tifoseria delusa ed amareggiata che a Pontedera ha lasciato polemicamente lo stadio molto prima della fine, perplessa per la prestazione anonima della squadra. Grazie a tutti.